Nell'intervento ho ricordato quanto sia imbattante la battaglia culturale nella lotta alla corruzione e quanto negli ultimi anni sia stato ottenuto in termini di aumento della trasparenza, in termini di nuove normative, ma anche in termini di risultati internazionali. Per esempio, negli ultimi tre anni abbiamo visto dieci posti di miglioramento della classifica di Transparency International. Non capitava da tempo, non è in merito di qualcuno in particolare, ma è in merito della capacità di fare squadra di tanti organismi.